buongiorno namaste allora oggi volevo parlare solo di un paio di cose come possiamo uscire queste questo crisi e andare avanti e come possiamo pensare di soluzione invece di pensare di problemi perché come funziona l'energia quello che pensiamo o dove mettiamo nostra energia quella cosa sarà sempre più grande allora se abbiamo un problema se stiamo affrontando un problema il più che pensiamo solo di quello problema il più grande che il problema diventerà se per esempio non lo so io taglio un dita mentre non lo so sto tagliando le verdure se io concentro solo su quella dita e il sangue che sta uscendo da mia dita e il dolore che io mi sento quella dita il dolore sarà più forte e probabilmente mia testa sarà più ansiosa perché non so quando smette di boh per quanto va avanti il flusso del sangue cosa succede se svengo potrebbe venire fuori mille altri problemi pensano sempre di mia dita per esempio un esempio banale ma invece se io penso di una soluzione può essere che il mio cervello poi comincia a pensare in un altro modo dicendo ok soluzione io devo cercare un modo per smettere il sangue di continuare a fluire o devo cominciare a pensare che cosa posso usare per dolore e già automaticamente mio cervello va in un'altra direzione perché sto pensando di una soluzione allora in questi in queste situazioni che stiamo affrontando adesso ovviamente è molto molto più grande come il problema di una dita tagliata per esempio ma dobbiamo concentrare sulla soluzione ovviamente questa è dove l'informazione corretto aiuta moltissimo perché quando abbiamo l'informazione corretta l'informazione giusta sappiamo esattamente quello che dobbiamo fare l'ignoranza crea confusione ignoranza è proprio la radice di tutti i nostri problemi perché quando non abbiamo l'informazione giusto come vi ho appena detto quando non abbiamo l'informazione giusto siamo in confusione e non sappiamo quale direzione di prendere non sappiamo cosa dobbiamo fare è come per esempio se stiamo guidando la macchina e non abbiamo una cartina per quel paese andiamo in confusione e poi non sappiamo quale strade dobbiamo prendere e non sapendo quale strade che dobbiamo prendere cominciamo a avere angoscia e paura perché cominciamo a sentire queste emozioni forti di paura allora questa sarebbe la prima cosa dobbiamo avere l'informazione giusta così possiamo trovare la soluzione invece di concentrare i suoi problemi allora tornando al discorso di come pensare di soluzione non problemi per esempio la prima cosa riguarda questa ignoranza è proprio l'informazione che abbiamo adesso soprattutto quella informazione che viene dalla media di massa televisione e questa informazione è già sbagliato purtroppo un sacco di gente hanno solo questa informazione e siccome loro stanno vivendo in ignoranza e loro non sanno la verità è difficile per quelle che sanno di andare avanti di fare certe cose per esempio questa prima cosa che dovremmo fare tutti per risolvere i problemi che abbiamo davanti noi adesso soluzione se dobbiamo concentrare sulle soluzioni per esempio io ho già parlato in un altro video di smettere di giocare questo gioco dell'elite e questo sicuramente dobbiamo fare 100% dobbiamo smettere tutti ma se 10 persone in 100 smettono di giocare questo gioco ci sono ancora 90 che stanno giocando e quelle 90 stanno giocando ancora perché non hanno l'informazione giusta perché stanno vivendo nell'ignoranza ovviamente quello è un problema nonostante il fatto che ancora questa gente vivono nell'ignoranza dobbiamo continuare a pensare soluzioni non a livello solo in nostra vita ma a livello anche più grande piano piano la verità avverrà fuori e molto più gente si sveglierà la prima cosa come io ho appena detto dobbiamo smettere di giocare questo gioco dobbiamo smettere di pagare le tasse lo so che un sacco di gente anche questo discorso di multe un sacco di gente sono uscita da casa hanno una multa perché non lo so hanno portato fuori la spazzatura sono uscito con il cane questa roba qua non dovremmo pagare queste multe perché se continuiamo a giocare il gioco in questo modo loro continueranno a trattarci in un certo modo questo io ho parlato già in un altro video così io non voglio parlare un'altra volta di questo potere anzi che abbiamo eccetera eccetera ma dovremmo semplicemente una soluzione per problemi che stiamo affrontando adesso smettiamo di pagare le tasse smettiamo di pagare le multe smettiamo di usare la mascherina io ho visto alcune restauranti adesso c'è la... sembra che stai andando non lo so, non... è peggio di un prigione a questo punto proprio c'è più libertà in un prigione e non dobbiamo farlo dobbiamo aprire le nostre attività senza tutte queste regole e dobbiamo fare tutti dobbiamo uscire da casa e dobbiamo tornare al nostro lavoro andiamo avanti e basta un'altra cosa se per esempio vogliamo la pace nel mondo la pace può venire in un giorno tranquillamente basta che smettiamo di andare nell'esercito se noi decidiamo domani non stiamo andando più a fare iscrizione per andare nell'esercito basta, la guerra finisce i politici possono usare loro figli per andare in guerra e finisce così la stessa roba con questa nuova tecnologia queste cinque... dobbiamo smettere tutti di usare smart meter o smartphone e la loro tecnologia non funziona se noi non stiamo usando il telefono per quella tecnologia per dire ma a parte di tutti questi su un livello molto più grande volevo dire un po' di consiglio anche in un livello in un micro livello cosa potete fare in vostra vita e se concentriamo sulla soluzione invece dei problemi cominciamo a vedere cominciamo a fare lavorare i nostri cervelli in un altro modo c'è sempre il sole che arriva dopo la tempesta quella è la verità e lo so che è difficile vedere ogni tanto ma noi in generale come esseri umani abbiamo reso molto più difficile nostra vita che dovrebbe essere l'abbiamo fatto diventare molto più difficile che deve essere per esempio ci sono gente con smartphone televisore nuove scarpe di marca ma non hanno niente da mangiare adesso per esempio ma dobbiamo ricordare cosa serve queste cose se viviamo sempre in un modo più semplice siamo in realtà siamo più felici abbiamo meno cose che dobbiamo preoccupare e più roba che abbiamo e più che siamo stressate perché abbiamo un'altra cosa che dobbiamo gestire e al fine della giornata quando nostra vita finisce in teoria non possiamo neanche portare tutta quella roba con noi allora in un certo senso non ha nessun valore la cosa che mi stupisce sempre di più sono queste tutte queste marche di moda questa è la cosa che proprio non riesco a capire proprio per niente perché la gente sono talmente dentro questa cosa che questa è proprio un'illusione 100% se non 200% perché al fine della giornata serve solo che abbiamo vestiti non serve che qual è la differenza tra una maglietta bianca e una maglietta bianca di Gucci è solo il nome il nome è solo un'illusione a fine della giornata 10 euro per una cosa e 1000 per un'altra non ha nessun senso 1000 euro le gente pensano che non c'è abbastanza soldi gente sono poveri ecco perché non hanno da mangiare ma in realtà tutti i nostri problemi sul pianeta potrebbero essere risolto in un giorno perché c'è abbastanza risorse c'è abbastanza soldi c'è abbastanza di tutto sulla pianeta che noi potremmo fornire cibo vestiti alloggio per tutta la gente sulla pianeta quella è la realtà in ogni caso siamo più felici quando viviamo in un modo più semplice nel yoga per esempio noi parliamo di questo di questo yamas e niyamas che più o meno yamas sarebbe il codice di autocontrollo e uno di queste yamas sarebbe sarebbe aparigraha e aparigraha vuol dire non possesso o non attaccamento in sanscrito e in altre parole questo vuol dire che vive non in un modo più semplice e tenendo solo quello che abbiamo bisogno solo quello che è necessario ci rende anzi più felice se per esempio una persona vive da solo ma ha una casa di 40 camere di letto in teoria non serve proprio non serve questo ovviamente è un esempio banale un po' esagerate un esempio esagerate ma penso che avete capito se siete in una posizione che non avete soldi per mangiare per esempio cominciate a guardare intorno di voi avete qualcosa che potete vendere un televisione una microonda che io spero non ne avete perché già dovremmo vivere senza queste cose ma se ne avete potete possibilmente vendere un televisore o avete una macchina in più io lo so in Italia per esempio ci sono famiglie con tre persone e quella famiglia ha tre macchine ma è necessario c'è una macchina per ogni persona in Italia probabilmente a questo punto ci sono più macchine di persone forse potete vendere uno per avere un po' di cash per pagare un po' di cibo non lo so forse avete vestiti in più che potete vendere sull'ibri o su qualche altro sito subito appunto il T o ci sono altri siti della roba usata per esempio e se non avete un lavoro per esempio potete insegnare da casa soprattutto per l'insegnante di scuola lingue avete qualche capacità in più tipo lingue straniere o se potete insegnare la musica o l'arte o qualsiasi cosa si può trovare un sacco di siti diversi dove potete offrire vostro servizio di insegnare qualcosa a qualcun altro questa potrebbe essere una possibilità altre cose che potete vendere online anche c'è Etsy per esempio avete qualche capacità di cucire per esempio o di non lo so fare l'arte potete provare a vendere qualcosa online durante questo periodo un po' più difficile e per la gente per esempio che hanno avuto ristorante o bar forse c'è la possibilità per esempio di fare consegne a domicilio per esempio potete fare qualcosa in casa e non lo so io sto pensando semplicemente soluzione per voi che forse scatta qualche pensiero in più in vostra testa o potete fare non lo so un corso online come cucinare una pizza in casa o come fare un caffè in casa non lo so solo un po' di idea altra soluzione se avete qualche iscrizione qualche abbonamento che potete cancellare per esempio un abbonamento alla palestra perché in ogni caso non sembra che la palestra sia neanche aperta che senza continui a pagare una cosa che non stai usando o un abbonamento di un'iscrizione alla televisione che sicuramente quella è la cosa più inutile io lo so in alcune famiglie pagano 100 euro al mese per avere sky tv e tutta questa cosa qua ma che cosa serve? a questo punto serve solo per avere più ansia allora quella ansia è la prima cosa che potete eliminare cancellarlo direttamente niente più tv e poi potete avere un extra 80 100 euro al mese allora che cos'altra iscrizione e bonamenti potete cancellare che non state usando adesso per avere più soldi per poi pagare cibo e se niente di niente di quello è possibile avete pensato di magari iniziare a fare un go fund me page non so in italiano ma lo so che ci sono questi crowdfunding o questi gruppi anche petizione online forse ma modi che potete creare una pagina e proprio spiegare tua situazione e poi la gente fanno donazione e questo anche se conosci bene il tuo vicino per esempio se non hai proprio niente da mangiare se sei arrivata proprio a un punto grave che non sai dove sta arrivando il tuo prossimo pasto magari potete fare un scambio con il tuo vicino per esempio un pezzo di pane per le candelle o non lo so queste sono semplicemente soluzioni che io stavo pensando per darvi un po' di incoraggiamento che non è proprio fine del mondo adesso guardando tutte le situazioni intorno lo so che ogni tanto è difficile ogni tanto è difficile guardare tutte le situazioni se non riesci neanche a vedere fuori le tue quattro mure è come un po' per esempio uno che vive in un rapporto con qualcuno abusivo è difficile per quelle persone dentro quel rapporto per vedere che il loro partner sta abusando anche a livello fisico emozionale mentale quello che ma la gente che sono dentro quel rapporto è difficile per loro vedere ma quando loro si stacca da quel rapporto poi riescono poi loro riescono a vedere che infatti qual'era una situazione terribile o un rapporto abusivo un rapporto negativo è la stessa roba che stiamo affrontando adesso che siamo in questa situazione abbastanza grave soprattutto in Italia non so perché in Italia è diventato proprio un incubo sta diventando sempre peggio e ovviamente un sacco di gente devono come io ho già detto in un altro video dobbiamo proprio smettere di giocare questo gioco e poi finisce così finisce in un secondo tutto può finire in un secondo se la gente lo vogliono che finisce e poi torniamo sempre al discorso di ignoranza quelle persone che non hanno le informazioni per loro è difficilissimo di smettere di giocare perché loro non sanno neanche quale gioco stanno giocando ma quella è l'unico modo e piano piano quando pensiamo sempre verso soluzione e smettiamo di pensare di problemi poi le cose piano piano vanno avanti all'inizio di questa pandemia per esempio la gente sono andate in panico senza sapere i fatti e senza essere preparati e se ricordiamo tutto quello che c'è intorno questo maia l'illusione per esempio la partite la cinema la moda la tv anche la carriera anche un lavoro per esempio è solo un'illusione è una distrazione della verità e ricordando questo possiamo poi lavorare su di noi fare questo lavoro interno necessario per vivere una vita migliore più felice dobbiamo ricordare che siamo noi la gente che dobbiamo provare ad essere più autosufficiente possibile e non dipendere sul governo duecento anni fa per esempio non c'era elettricità non c'era acqua in casa un sacco di gente quasi tutta la gente avevano il loro orto erano più autosufficiente e dobbiamo tornare in un certo senso a quel stile di vita e questo entertainment questi lussi come guardare la tv o uscire andare al ristorante o avere le vestiti di marche sono solo un'illusione che ci tiene in questo circolo viziate che non riusciamo mai a uscire siamo sempre più dipendenti sul sistema e qual è il primo sbaglio che un sacco di noi l'abbiamo fatto e dobbiamo uscire da questo sistema e essere più autosufficiente che non siamo non siamo in questa trappola allora io spero che questo vi ha aiutato fatemi sapere se avete domani o qualche commento e se vi è piaciuto il video potete anche fare like e se volete seguire il canale potete iscrivervi buona giornata namaste e ciao 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 Grazie a tutti